La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 16 persone, tra cui Antonio Di Matteo, direttore generale di Banca Tercas dal 2005 al 2011, accusato di aver utilizzato, approfittando della sua posizione di vertice, il patrimonio e le potenzialità finanziarie dell'Istituto di Credito Terramano, ad esclusivo vantaggio proprio e di alcuni imprenditori amici. Associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, appropriazione in debita a bancarotta fraudolenta della società Jepa Finholding e riciclaggio, sono questi i reati contestati a seconda delle singole posizioni dai pubblici ministeri Maria Francesca Loi e Giuseppe Cascini. L'11 febbraio prossimo, davanti al GUP Giulia Proto, dovranno comparire tra gli altri gli imprenditori Francesca Antonio Di Stefano, Raffaele Di Mario, Giampiero Samori, Antonio Sarni e Vittorio Casale. Le indagini sulla Banca Tercas sono state condotte dalla Procura di Roma perché nella capitale sono stati avviati i procedimenti legati al fallimento del gruppo Dima Fin di Di Mario e perché è romana la competenza indagare sul reato di ostacolo all'attività di vigilanza di Banca Italia, parte offesa in questo giudizio, assieme alla Cassa di Risparmio della provincia di Terramo Tercas. Stando a quanto accertato dai magistrati e dalla Guardia di Finanza, grazie a Tercas il gruppo di imprenditori indagati e accusato di aver ottenuto ingenti finanziamenti con modalità non rispettose dei protocolli istruttori adottati dalla banca nei confronti di tutti gli altri clienti e che oggi, all'esito del commissariamento, sono stati qualificati tutti come crediti di difficile recupero, ovvero ad incaglio o sofferenza, per un importo complessivo di 200 milioni di euro.